un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo proprio sul sagrato della chiesa di san pio da pietra il cina oggi ci troviamo qui perché vogliamo leggervi uno stralcio di una lettera che padre pio scrisse nel 1918 quindi da san giovanni rotondo dalla sua cella la numero 5 scrisse questa lettera a padre agostino il 25 marzo mio carissimo padre gesù sia sempre con voi vi ricompensi dei sacrifici che andate sostenendo per lui padre pio scrive quanto è buono il signore con tutti caro padre ma quanto ancora lo è con voi sempre ed in un modo molto più speciale mi affliggo soltanto nel sapervi in estreme prove sento come mie tutte le vostre afflizioni il sapervi spesso così agitato mi commuove a dire al signore che mandi alla sventura di desistere alquanto dal fedeloce assedio o che in voi raddoppi sempre più la forza di resistere con sua vera assegnazione alla sua santissima volontà lo vado sempre più importunando affinché scarichi su di me le prove che sono riservate per voi e che a voi stesso ne riservi la corona e il premio dovuto a queste prove ma mentre così lo prego e mi addoloro sento anche una spirituale gioia per il grande amore che dio vi porta e segno certo di questo amore la tempesta che rugge sul vostro capo e vi sconvolge nella lotta vi è la corona e più l'anima combatte e più si moltiplicano le palme e sapendo che ad ogni vittoria che si riporta corrisponde un grado di gloria eterna come o padre non gioire nel vedersi così impegnati a riportarne molte durante il corso della vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti